Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come Da diversi giorni che uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi 2022 non si vede più e i telespettatori i più attenti hanno notato la sua improvvisa assenza Ma cosa gli è accaduto? Il retroscena è scioccante, scopriamo di più L'Isola dei Famosi, Ilari Blasi.All'Isola dei Famosi, i telespettatori i più attenti hanno notato che un naufrago manca l'appello già da diverso tempo Avete capito chi è assente dalle scene? È uno dei personaggi più discussi del reality di Ilari Blasi, ecco chi è L'Isola dei Famosi, un naufrago è scomparso, telespettatori preoccupati All'Isola dei Famosi, l'assenza di un naufrago durante i montaggi del daytime, ha scatenato una forte preoccupazione da parti dei telespettatori i più attenti Ad essere completamente scomparso dai riflettori, sembra essere proprio blind Punto il naufrago non appare da ben due daytime, infatti, diverse persone hanno segnalato questo fatto Sui social, in molti si sono chiesti come mai fosse sparito Un utente su Twitter ha manifestato tutta la sua delusione per questa strana sparizione del giovane rapper Ma per quale motivo è totalmente scomparso? Il concorrente avrebbe avuto un infortunio durante il gioco della pelota, in questi giorni, infatti, blind sarebbe stato in infermeria per un problema al piede Punto l'Isola dei Famosi, blind. Blind, tutto sulle sue condizioni attuali Al momento non abbiamo notizie sulle sue condizioni di salute, ma probabilmente è nelle mani di un'equipe di medici specializzati Ma un altro fatto che preoccupa i fan del programma, è che gli autori del reality non hanno mai parlato di lui A sottolinearlo è stato proprio un utente che su Twitter ha scritto Ma comunque talmente importante per gli autori da non fare passare neanche la scritta sottodicendo che in infermeria come per gli altri Punto insomma, il percorso di blind non si sta rivelando affatto facile Durante la diretta in molti hanno notato il suo volto stanco, inoltre lui è stato protagonista di diversi scontri con gli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi Ma il giovane è tornato in polopo e alcuni suoi familiari sono intervenuti per prendere le sue difese Per scoprire cosa accadrà non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video